Siamo a Marsiglia, al Summit Europeo delle Regioni e delle Città. Con il mio gruppo, il Partito Popolare Europeo, abbiamo dato un messaggio chiaro alla Russia. Siamo con l'Ucraina, siamo contro l'intervento militare che sta subendo e invitiamo tutti, tutti i cittadini europei a manifestare, a mettere in piedi qualsiasi iniziativa in favore del popolo ucraino. La massima solidarietà nostra del Comitato delle Regioni e del Partito Popolare Europeo.